Buongiorno a tutti, questa volta è una deliberazione di Consiglio Comunale 44 del 16 marzo 2015, resoconto della deliberazione numero 40 del 16 marzo 2015 relativo a rinvio termini di pagamento della Tari, tassa su rifiuti per l'anno 2015, modifica il regolamento dell'imposta unica comunale. E allora, presiede, diciamo, resoconto della deliberazione, dopo la lettura della proposta di deliberazione da parte del Presidente si registrano i seguenti intervisti. L'assessore Manno riferisce che la deliberazione in oggetto deriva da tre motivi fondamentali, il primo è per consentire all'amministrazione di gestire le residue e criticità del tributo Tari, il secondo è per ovviare ad un intoppo tecnico che ha fatto coincidere il saldo 2014 con la prima rata del 2015, il terzo motivo è forse quello più interessante, è quello di consentire alle famiglie, alle imprese di dilazionare la spesa, portando così le nuove scadenze 16 settembre, 16 ottobre, 16 dicembre. Il Presidente dà lettura della seconda Commissione e afferma che alla fine, che più che un documento tecnico, gli sembra un documento politico. Ma secondo me il Presidente non può entrare in questo momento. Questa è la relazione verbale della Commissione. Il consigliere Vario ricorda che già lo scorso anno sono stati evidenziati dei problemi da parte dell'ufficio, c'è stato un incremento di personale che però è durato poco tempo. Da parte sua è favorevole a spostare le scadenze, ma ritiene anche, in relazione alle varie dichiarazioni fatte dal Sindaco in questi giorni, che bisogna iniziare a dare risposte concrete alla città e non continuare a parlare di programmi, perché Alcamo piange in tutti i sensi. Le dispiace dover essere lei, in qualità di consigliere di maggioranza, a dover fare questo tipo di considerazioni. Ma sottolinea che la seconda Commissione, così come pure le altre, si riunisce per lavorare seriamente e per dare suggerimenti utili all'amministrazione, e non per perdere tempo. Conclude affermando che se lo spostamento dei termini di pagamento non comporta nulla di grave, lei sarà favorevole alla proposta. Il consigliere di Buona si dichiara favorevole alla proposta di rinvio, tuttavia chiede di sapere dall'assessore se ci si è mai chiesti come lavorano questi uffici e perché ancora gli archivi non sono stati aggiornati. Afferma che non è stato fatto niente di tutto ciò. Afferma, al contrario, che la seconda Commissione ha fatto un grande lavoro sui debiti fuori bilancio, sulle cartelle sattoriali, ma non si capisce chi le deve pagare. Una volta è stata intrapresa una sanzione disciplinare a carico dell'avvocatura comunale e dopo qualche tempo è stata restituita come premio per l'efficienza di questo ufficio. Conclude affermando che è assolutamente impensabile pensare di continuare a lavorare in questo modo. Per quanto riguarda il voto del gruppo, area democratica interverrà in seguito il capogruppo. Il consigliere Vesco chiede di sapere cosa accadrebbe se questa sera il Consiglio Comunale non dovesse deliberare il rinvio dei termini, considerato poi che gli uffici non riescono a superare la criticità che già era stata segnalata l'anno scorso. Chiede di sapere come mai non si è provveduto in merito. Cosa accadrebbe poi in caso di mancato il rinvio, visto che l'ufficio non ha ancora provveduto ad elaborare le nuove cartelle. Il consigliere Intravaia sottolinea che fino ad ora il suo gruppo ha sempre votato quei provvedimenti che vanno a favore della città e anche oggi la democratica voterà a favore realmente questo provvedimento. Tiene però a precisare che in questa consigliatura democratica non si è servita della politica, ma ha servito la politica e ciò è inconfutabile perché ha lasciato le poltrone. Il consigliere Calvaruso ricorda che anche quest'atto deliberativo è arrivato all'ultimo minuto e il Consiglio è ancora una volta obbligato ad approvarlo per non creare un danno alla città, ma è ormai prassi comune di questa amministrazione. A proposito delle dichiarazioni del Sindaco relativamente allo spreco di denaro causato dal lavoro delle commissioni, vuole rispondere che le commissioni in due anni hanno proposto un mare di suggerimenti all'amministrazione. Chiede comunque di sapere se il rinvio di questa tassa può portare problemi alla Cassa. Ritiene che non basti il parere tecnico del dirigente di ragioneria, ma occorre una relazione a firma del dirigente che confermi l'approvazione di questo atto deliberativo che non arregherà nessun danno. Per quanto riguarda la patta politica, afferma che è giusto che si faccia in quest'Aula e sottolinea che proprio la seconda commissione ha portato molteplici suggerimenti per fare risparmiare questa città che non fa l'amministrazione quando paga 9.000 euro un elaborato del Paese e si spendono 10.000 euro per ogni riunione del Creative Lab. Conclude ribadendo la richiesta di dichiarazione da parte dell'amministrazione e che dica che questo provvedimento non crea danni. Il Consigliere Trovato, poiché questo è un provvedimento che va incontro ai cittadini, annuncia voto favorevole. Il Consigliere Stabile ritiene che il rinvio della scadenza del tale sia un fatto tecnico e formale. Il problema è che uno dei motivi per cui si chiede questo rinvio è che l'ufficio si trova impantanato nel riallineare i dati rispetto alla futura conduzione più lineare. Afferma poi che quando l'amministrazione ha deciso di risolvere il rapporto con il concessionario della riscossione AIPA non ha capito che non era pronta per farlo e ancora a distanza di due anni l'ufficio non riesce a gestire gli archivi in modo adeguato. Poi c'è l'intervento del Consigliere Milito del 59, chiede di sapere se l'ufficio ha già predisposto i bollettini per il 2015 per consentire ai cittadini di pagare nel caso in cui la proposta venga questa sera respinta. Poiché la risposta è negativa, il cittadino non incorrerebbe nessuna sanzione. Il Consigliere Longo, per quanto riguarda le dichiarazioni del Sindaco, afferma di non conoscere il contenuto ma rassicura al Consigliere Milito che i consiglieri di maggioranza discuteranno di questi fatti in separata sede perché secondo lui i panni sporchi si lavano in casa. Il Consigliere Ruiz ritiene che questo sia un provvedimento che va incontro alle esigenze della città esclusivamente per l'incapacità dell'amministrazione degli uffici preposti ad essere pronti in tempo utile relativamente alle scadenze fissate. Sottolinea come questa sia l'ennesima volta che l'amministrazione porta i provvedimenti fuori tempo e ogni volta sia la maggioranza sia l'opposizione hanno approvato i provvedimenti nell'interesse della città ma chiaramente l'eccezione non può diventare metodo. Il Consigliere Coppola chiede di sapere nel caso il provvedimento non fosse approvato se ci saranno danni. Il Consigliere Calvaruso fa notare che questa sera non è solo l'opposizione che ha criticato l'amministrazione ma anche la maggioranza. Il Consigliere D'Angelo chiede di sapere dall'assessore Manno se questo rinvio è da debitare agli uffici, agli archivi dell'AIPA o ai programmi che non sono adeguati. Vuole ricordare al Sindaco che critica le commissioni consigliari che quest'ultimo hanno lavorato dando suggerimento a questa amministrazione che ancora una volta si dimostra incapace di amministrare. Sarebbe opportuno che il Sindaco che non è mai presente anche negli atti importanti le critiche le rivolgesse a se stesso. Chiede quindi garanzia all'assessore Manno dopo che tutti questi mesi di proroga a settembre sia tutto sistemato. Assessore Manno per quanto riguarda danni a carica al cittadino afferma che lo Stato del contribuente prevede che i contributi non possono subire sanzioni per insufficienza della pubblica amministrazione. Il Consigliere Allegro per dichiarazione di voto annuncia il proprio voto favorevole perché il provvedimento va incontro ai cittadini. Il Consigliere Caldarella annuncia il proprio voto favorevole favorevole solo perché va incontro alle esigenze dei cittadini ma sottolinea che non si può più tollerare che è probabilmente così importante arrivano sempre all'ultimo minuto. Il Consigliere D'Angio per dichiarazione di voto ha affermato che secondo lui questa sera il Consiglio Comunale voterà questo provvedimento per mandare incontro alle incapacità di questo Consiglio Comunale piuttosto che per andare incontro alle esigenze dei cittadini. Da parte sua il voto sarà favorevole per consentire agli uffici di sistemare una volta per sempre gli archivi. mi pare di avere detto quasi tutto vi ringrazio come sempre dalla vostra cortesa attenzione ci risenteremo la prossima volta.